Ehi! Oggi un giorno che... Ehi! 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 Strette licenze Scivola, non vola sul mio shoulder Entra dentro il brivido E poi... Stasera e poi... E chi c'è? Nella mia felicità Oggi un giorno che ricorderai Oggi un giorno che ricorderai Sarà tra quelli indimenticati Oggi un giorno che ricorderai Farà parte di quelli indelebili Anche il cielo guarda come blu Vieni oggi o mai più Oggi un giorno eccezionale Non lo scorderai mai più Oggi un giorno che ricorderai Sarà tra quelli indimenticati Oggi è il giorno che... Finalmente lei uscirà con me Fatevi un grosso applauso Ma fatevelo grosso Non avete sbagliato niente Io, che era anche facile Bastava che io facessi... Oggi un giorno che ricorderai... C'è sicuramente bravi che provo ad aumentare il tasso di difficoltà Allora facciamo così... Ogni volta che io alzo le braccia Voi tutti insieme dovete cantare... La 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 laa e la la... La 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 la... La 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 e la la... La 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 e la la... Oh c'è un giorno che... Non è tutto Aumento... Aumento il tasso di difficoltà Voglio vedere se... Se questa volta non smale... Allora... quando io metto la mano così voi con la testa dovete fare infatti che lo fai? e questa è la cosa strana signore, signori, ragazzi, ragazze questa è la pallone di Vimpe grazie a tutti e questa è la pallone di Vimpe il primo attito fanno compassione mamma che presione allora avete capito? se vedete questa gente state caldi e non succede niente girate la larga e rimanete serio è proprio meno sono deficiente ma nei cammini siamo là in là quindi biciclette siamo là là e siamo qua ci piace rin rin si vado soltanto e siamo là in là quindi biciclette siamo là in là e siamo qua ci piace rin 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 siamo là in là e siamo qua tutti rin 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 voglio togliervi un'altra curiosità vorrei che alzassi la mano solo colui o con lei o con loro che almeno una volta nella vita ha visto ballando con le stelle cioè praticamente tu allora non c'è bisogno che io vi dica che stiamo parlando di una trasmissione di ballo e non c'è bisogno che vi dica che se c'è il ballo va da sé che c'è anche la musica forse c'è bisogno che io vi dica non so se tutti sanno che ballando con le stelle va in onda dal vivo in diretta ed è giusto che si sape che coloro che suonano dal vivo in diretta non sbagliano mai sono questi professori bravi ed è con grande onore voglio presentarveli uno a uno cominciando da da colui che ve lo giuro è stato anche campione mondiale di fisarmonica a piano forte Enzo Broietti grazie a tutti grazie a tutti Enzo Broietti un grande gioia e un grande onore che vi presento colui che è stato soprannominato Linguimarsden dello swing ah non lo sapevi stamattina è stato alla chitarra Paolo Varoli grazie a tutti grazie a tutti Paolo Varoli Paolo Varoli grazie a tutti Paolo Varoli grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Mauro Parma Peppe Stefanelli Mauro Parma e Peppe Stefanelli voglio presentarvi musicista più fortunato ora lo so se ci sono i musicisti musicisti lo sanno che ci sono quelli più fortunati quelli meno più fortunati colui che vado a presentare adesso è il più fortunato perché dovete sapere comunque noi ci vada sia in Italia che all'estero lui è fortunato perché 24 ore su 24 lui trova con quella faccia nessuno aveva pensato qualcosa Nicola Bentoncini è la trova Nicola Bentoncini al drombone e mi auguro che le ragazze siano plimenti Daniele Bocchini e la sezione fiati l'abbiamo presentata tutta ho detto la sezione fiati l'abbiamo presentata tutta l'acclamazione faccio l'acclamazione così non spacchi più il marò questo è proprio spagnolo allora il ragazzo viene da Barcellona in realtà viene dalla periferia di Barcellona quando siete in centro prendete la rambla che ramblate ramblate l'acqua fino ad arrivare a dubbio perché noi lo chiamiamo Pedro in realtà lui è Gabriele Costantini sax tenore Gabriele Pedro Costantini venendo in qua oggi mi ha detto ah stasera tocca a Juanito siamo nel suo paese dovete sapere che il mondo del jazz si usa spesso a fare improvvisazioni siccome io sono molto cattivo ce l'ho dentro non più d'animo ne prendo una a caso ogni sera ne prendo una a caso in realtà non è perché sono cattivo perché mi piace proprio ascoltare jazz ascoltare improvvisazioni andiamo a Casoli e quindi questa sera tocca a Juan Juan mentre venivo qua oggi ascoltavo per radio un brano voglio vedere se sei capace di improvvisare su questo brano il brano è libertango la versione di Astor Piazzone lear. La versione di Astor Piazzone alla visione di Astor Piazzone Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.